sono di nuovo qua oggi vi parlo tanto per allinearmi anche all'intervento di prima di chiara del lockdown il 9 marzo sapete più o meno tutti cosa è successo ci hanno detto chiusi in casa e vi parlo di un sito vicinisicuri.it è ancora online lo potete trovare ancora lì che funziona che è stato messo su da tre amici al bar quasi come la canzone per risolvere un problema per aiutare e le persone che come me erano obbligate a stare in casa io avevo mia moglie positiva quindi eravamo tutta la famiglia obbligati a stare in casa non potevamo neanche andare a fare la spesa e non avevamo previsto e quindi le dispense non erano lunghissime ma aiutare anche soprattutto un'altra categoria gli esercenti che normalmente non sono digitalizzati non hanno siti spesso neanche la pagina facebook non facevano consegne a domicilio prima di questo periodo e si sono trovati a riorganizzarsi in fretta e furia ma con un problema non riuscivano a farlo sapere a nessuno perché non avevano i clienti in negozio a cui far sapere che potevano portartela a casa vicino sicuro offre una mappa dove voi potete trovare i negozi vicini a casa divisi per categorie merceologiche contattarli quindi non è un e commerce non vendiamo direttamente non non si può fare nient'altro che telefonare scrivere una mail o andare sulla pagina facebook del negoziante e in questo modo riuscire a ottenere a farsi portare la spesa i vestiti ci sono varie categorie questo progetto è stato ispirato a daniele sghedoni che amico di reggio conoscenza di digital update che il 9 marzo ha visto un post di riccardo saporiti un data journalist di gallarate pubblicato su variese news dove invitava gli esercenti a far sapere del loro paesello a far sapere se potevano consegnare a casa l'idea è piaciuta e subito daniele figo lo facciamo anche per reggio chiesto il permesso per avere i giusti credit se non appropriarsi di idee altrui ovviamente è partito lancia la call qualche d'uno mi aiuta a farlo assieme a daniele alfredo altro nostro amico ci sta registrano subito il dominio fanno il logo senza nessuno dei due grafico uno fa lo sviluppatore l'altro il marketing technologist ma non sono grafici il giorno dopo mi sono unito anch'io per occuparmi anche della raccolta dei dati e dopo due giorni il sito era online funzionante con qualche centinaio di esercente già iscritto perché nel frattempo una parte del uno dei tre si era occupato di fare un minimo di pr in un giorno quindi coinvolta con pesercenti della città e subito riuscita a far arrivare qualche segnalazione insomma qualche negozio che si iscriveva e quindi la mappa dopo due giorni cominciava già essere popolata inizialmente l'intenzione nostra era quella di creare vicino e sicuro per alcune città in base alle disponibilità di chi si era offerto doveva essere su reggio emilia su ferrara e su barletta perché avevano trovato amici disponibili a occuparsene e quindi pronti a fare quello che noi avremmo fatto su reggio emilia in realtà dopo due giorni che era online abbiamo capito che funzionava male quindi abbiamo cambiato subito il modello in corsa ed è diventato vicino e sicuro è solo un sito unico una struttura unica per non avere varie da gestire e raccolti cominciato a raccogliere dati esercenti iscrizioni di esercenti da tutta italia quindi farlo diventare direttamente un sito nazionale pian piano gli esercenti cominciavano a crescere dopo una settimana erano già ricordo 500 esercenti credo iscritti e la mappa cominciava a popolarsi di tanti puntini scusate se devo guardare ma con le date sono pessimo e quindi ve la ricordo dopo la settimana ci si è posto anche addirittura ci sono arrivate delle richieste da israele ucraina francia e inghilterra per replicare la cosa e quindi abbiamo offerto il logo se andate su proxysur.fr o nearby and safe punto uk no punto com o co punto uk non ricordo riconoscete immediatamente il logo perché gli abbiamo regalato tutto per replicare questa cosa e come è stato possibile riuscire a farlo partire così in fretta è stato possibile perché il team era estremamente snello a noi tre col tempo dopo ci sono uniti altri due amici di bologna di ferrara che ci hanno aiutato solo con le pr perché ormai la parte tecnologica era ben avviata e non volevamo cambiarla la scelta per riallacciarmi a quello di ieri la scelta degli strumenti è stata fatta tenendo conto di l'esigenza che noi avevamo messo come prioritaria la velocità a noi interessava essere utili subito un bel progetto avrebbe richiesto settimane quantomeno ci sono ovviamente monitoravamo altri progetti simili ne sono nati in quel mese una quarantina che abbia visto alcuni sono partiti davvero funzionare anche solo mettendo in contatto persone e esercenti ea metà aprile capito non era la cosa che noi volevamo metà aprile ormai era già tutto andato ognuno si era già organizzato e noi voleva risolvere il problema subito e quindi abbiamo fatto con gli strumenti che avevamo sapendo che questa cosa ci avrebbe creato dei problemi esempio la mappa ci sarebbe piaciuto farla con open street map per un discorso di con gli strumenti open source poterlo condividere eccetera eccetera nessuno di noi tre è esperto in open street map però uno di noi tre conosce molto bene google map perché lo usa al lavoro perché a pagamento perché da questo punto di vista è uno strumento eccezionale per essere usato e quindi non ci siamo posti problemi e ben detto ok chi se ne frega tra virgolette in questo caso dell'open source abbiamo bisogno che vada su subito google map è pronto e va lì poteva essere comodo un layer intermedio però non interfacciarsi direttamente con google map geowebservice è una società francese che offre uno strumento per fare questo alle aziende e gli abbiamo chiesto se ci offrivano il loro strumento la loro licenza costa qualche migliaio di euro l'anno che ovviamente non ci piaceva metterli doverli mettere fuori ma in realtà gli abbiamo chiesto se ce l'offrivano per questo progetto e ben volentieri ci ha detto guarda vi diamo una licenza è limitata full fate quello che volete usate la perfetto per la raccolta dei dati qual è lo strumento cui pensate più veloce per far compilare un form qualcuno google form fine ci siamo posti il problema privacy indicazioni eccetera poi ci siamo guardati chi se ne frega ascolta noi domani vogliamo essere online punto quello è lo strumento che ci permette non potete fare fronzoli grafici se avessimo usato un altro strumento potevamo anche renderlo più carino più bello tutto quello che volete col fatto che lì non potete farlo tolto il dubbio andati online dopo una settimana il 21 marzo eravamo quasi alla soglia del pagamento per col fatto che l'abbiamo aperto all'italia sono aumentati molto i visitatori sapete che google map è gratuito ma fino a una certa soglia in realtà voi vi registrate vi offrono 200 euro al mese di crediti per le visualizzazioni per molti siti sono più che sufficienti per lavorare normalmente cominciavamo ad avere parecchie visualizzazioni e quindi cominciava a porsi il problema cavoli qua finisce che ci tocca tirare fuori di tasca nostra qualche centinaio d'euro a testa per riuscire a tenere il sito così altrimenti come facciamo ci pensiamo stanotte poi dopo domani vediamo cosa fare quella notte daniele non ci ha mai confessato se aveva bevuto una birra di troppo no fa la cosa più naturale di questa terra adesso ci appare scrive a google europa dicendo noi abbiamo sta cosa però ci sembra carino il progetto sta funzionando però non sappiamo come proseguire perché non abbiamo soldi tempo tre ore google ci risponde in inglese dandoci credito per di 2500 euro al mese dicendo anche se poi raggiungete questa soglia scriveteci che alziamo senza problemi e lì ci siamo stupiti perché siamo abituati che per fare un progetto normalmente si parte dal budget io ho una bella idea vado a cercare i soldi vado a spiegare l'idea e se poi trovo qualcuno convinco qualcuno a seguire quell'idea mi dà credito e riesco a realizzarla e abbiamo capito che lì invece ragione in un altro modo io faccio una cosa quando la faccio e funziona magari non è perfetta e perfettibile ma il fatto che l'abbia fatta gli dimostra che l'idea era valida e quindi ha funzionato anche quella e da lì quindi siamo ripartiti ulteriormente grazie alle due new entry francesco del buono e federico cappuccio e cappucci ci hanno aiutato a fare pr per avere per far arrivare la voce a nuovi esercenti quindi da regioni diverse siamo andati su hanno scritto di noi su cosmopolitan su vanity fair è stato a eta beta di radio rai sole 24 ore le riviste i giornali locali varie volte e vedevamo come ogni volta che uscivano notizie del genere arrivavano in effetti iscrizioni eccetera eccetera e alla fine del periodo ci siamo chiesti e ce lo stiamo chiedendo tuttora in realtà cosa farne di vicino e sicuro e se trasformarlo in un e commerce se trasformarlo in qualcos'altro se chiuderò e salutare e siamo ancora temiamo di dover prendere questa decisione anche se speriamo di poter far finta di niente che non succeda più niente soprattutto però abbiamo ricavato da tutta questa esperienza una convinzione su perché è andato così bene perché fondamentalmente all'inizio la scelta principale che abbiamo fatta è stata quella del team i primi tre alfredo daniele e io abbiamo una stima e una fiducia infinita uno nell'altro ci siamo divisi i compiti e nelle nostre chat che ovviamente in cui entravamo svariate volte al giorno non abbiamo praticamente mai parlato dei dettagli tecnici abbiamo delegato fiducia te ti occupi di quello non voglio neanche sapere quello che fai fallo te fine praticamente eravamo freelance soli ma occuparci di un pezzettino e basta sapendo che potevamo fidarci degli altri e non avevamo bisogno di condividere le scelte ci sono state un sacco di cose dove se avessimo dovuto aspettare di essere d'accordo in chat in tre probabilmente sarebbero passate 24 ore perché poi dopo ti viene l'idea lo vorresti far meglio ma non va bene ma perché lo fai così eccetera eccetera il fatto di essere soli in realtà è stato un vantaggio in questo caso perché ci ha permesso di andare e tenere come stella polare la fretta e l'urgenza del servizio alle persone al punto che eravamo talmente convinti di quella che abbiamo rifiutato almeno una ventina di volte sponsorizzazioni da parte di esercenti che erano disposti a pagare per esserci meglio ma potete mettere la foto del menu nel caso dei ristoranti pagando e noi abbiamo detto di no a tutti perché la nostra il nostro obiettivo era non snaturare il progetto e il senso di urgenza che aveva dopo di questo una volta ripartito un po il lavoro in realtà ci siamo accorti come anche nei progetti professionali normali abbiamo cominciato a pretendere più fiducia se io mi devo occupare di quella cosa discutiamone meglio all'inizio ma fine mia nel caso di dei team soprattutto se sono piccoli piero dovuto scappare ragionavamo ieri sulle dimensioni ideali dei team che non devono mai essere più grandi di totte in realtà mi sono convinto che la dimensione ideale del team è tre ma con tre ma quando ci sono tre cose da fare e te le dividi punto in quel modo siamo riusciti a arrivare a risultati dove abbiamo visto che aziende anche grosse che hanno voluto fare progetti del genere investendoci decine di migliaia d'euro non sono riuscite a fare alcuni portali del genere dopo un mese e mezzo non erano ancora online con nessun esercente perché non riuscivano a raccogliere i dati un portale si è bloccato sappiamo da fonti interne sulle questioni della privacy policy l'avvocato dell'azienda gli ha bloccato quella cosa perché diceva che non erano in regola e quindi hanno speso soldi per voler fare una cosa no profit che non poteva funzionare perché l'avvocato gliela teneva bloccata il ragionare invece con il nostro obiettivo e l'organizzazione che ci siamo dati ci ha permesso di arrivare a questo qualche uno di voi ci ha aiutato un sacco dandoci un sacco di indirizzi monia più francesco che è andato via eccetera e anche il passaparola è stato del numero di esercenti ad oggi credo che sono 3.300 circa gli esercenti iscritti più o meno la metà sono arrivati col passaparola il resto tramite catene di supermercati indirizzari di associazioni che ce li hanno dati e quindi abbiamo diviso un po' tra i numeri arrivati in massa e quelli invece raccolti uno dopo l'altro grazie al passaparola e all'aiuto che ci hanno dato speriamo che non serva più quel portale noi ci auguriamo di chiuderlo presto però per scaramanzia aspettiamo qualche mese che non si sa mai grazie 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 grazie